Termus PT è il software per il calcolo numerico della trasmittanza termica lineare dei ponti termici in linea con le norme UNI EN ISO 10211 e 14683. Con Termus PT si può procedere a disegnare un ponte termico bidimensionale di qualsiasi forma includendo tutti i materiali necessari. L'elenco dei materiali potrà essere composto manualmente caratterizzando i materiali per conduttività e specifica colorazione per rappresentarli graficamente oppure acquisendo direttamente gli elementi da Termus con semplici operazioni di copia in colla. In questo modo si otterranno in maniera del tutto automatica anche i valori di conduttività per ogni singolo materiale che potrà poi essere caratterizzato da un proprio colore identificativo da un punto di vista grafico. Allo stesso modo possiamo definire i confini che assegneremo poi alle facce. Il disegno del ponte termico risulterà estremamente semplice grazie alle funzionalità disponibili che comprendono fra le altre linee guida, griglie rettangolari e radiali, zoom, i consueti snap. Non manca la possibilità di importare schemi grafici particolari costruttivi dai formati di XF o DVG che una volta inseriti sulla tavola grafica potranno essere velocemente lucidati con le entità di Termus PT, contorno, strati, terreno, grazie anche agli snap precedentemente visti. Inserito il contorno possiamo ora definire ad esempio gli strati che costituiscono il nostro schema da sottoporre a calcolo. Ecco un primo strato e con le stesse funzionalità possiamo definire tutti quanti gli altri strati. Ad ogni strato viene associata una specifica etichetta che potrà essere riposizionata con opzioni già disponibili nel programma oppure selezionando l'etichetta e spostandola manualmente. Ai singoli strati assegneremo poi i materiali previsti nei dati generali. Operazione questa fattibile anche attraverso delle selezioni multiple. Effettuate in questo modo l'assegnazione di tutti i materiali, è possibile associare alle facce del contorno i relativi confini precedentemente definiti nei dati generali. Avviamo a questo punto il calcolo. In questa fase il programma esegue anche la diagnostica di quanto imputato e dove necessario interviene segnalando la problematica rilevata. In questo esempio è segnalata l'assenza della definizione della lunghezza di riferimento rispetto alla quale calcolare la trasmittanza termica lineare o KL che dir si voglia. Naturalmente secondo necessità possiamo scegliere la lunghezza esterna o quella interna. Basta selezionare la freccia e spostarla e rieseguire il calcolo al termine del quale possiamo valutare l'esito della triangolazione oppure visualizzare le curve di livello o curve delle temperature sulle quali spostando il cursore del mouse sarà possibile leggere la relativa temperatura. Nel pannello a destra sono invece disponibili risultati di calcolo con K lineico, coefficienti di accoppiamento termico, flusso termico ed in calce la scala cromatica. Molto semplice e veloce è anche la rielaborazione dello schema calcolato per valutare diverse soluzioni progettuali. Basta annullare il calcolo e da portare le modifiche necessarie, magari anche al contorno, allargandolo per poter contenere ulteriori strati. È possibile anche digitare lo step di allargamento direttamente da tastiera. Possiamo a questo punto ad esempio spostare anche uno strato precedentemente disegnato attraverso il relativo maniglione. Nei dati generali prevedere un nuovo materiale necessario per lo strato da inserire, che disegneremo con le modalità precedentemente viste. A questo punto, inserito il nuovo strato, gli associamo il relativo materiale e provvediamo a ricalcolare la condizione. Ecco i nuovi risultati di calcolo. Una condizione completamente diversa. Come vediamo, abbiamo la libertà di disegnare qualunque condizione, di rielaborarla velocemente. Possiamo affrontare un numero infinito di combinazioni, come le possibilità che il tecnico si trova ad affrontare. Non mancano, inoltre, funzioni che per i casi più semplici consentono il ricorso al wizard, dove basta semplicemente selezionare la categoria di ponte termico che ci interessa e personalizzarne poi i dati geometrici e quelli termici, per ottenere immediatamente lo schema da sottoporre al calcolo. A calcolo avvenuto è possibile compilare e stampare, tramite il work processor integrato, una vera e propria relazione tecnica di calcolo, comprensiva di tutti i dati numerici e grafici. In calce alla relazione stessa verrà riportata anche l'esito di un'ulteriore verifica, se il ponte termico è corretto oppure no. E se i calcoli appena eseguiti ci servono in termus? Niente di più semplice. Basta copiare i dati, creare un ponte termico in termus ed incollarli. Con termus PT non devo più accontentarmi, non devo più adattare qualcosa che trovi in un atlante. Calcolo esattamente ciò di cui ho bisogno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.